Lungi da me voler generare polemica, voler fare chiacchiericcio, però devo dire la verità, il giorno dopo la fine del mercato abbiamo ancora in piedi la questione che sì, perché al di là di tutto quello che si può pensare sul mercato, c'è chi pensa che sia stato completo, chi pensa che ci siamo rinforzati, chi pensa che ci siamo indeboliti, però legge sulla nostra testa questa storia. È una storia abbastanza sconveniente per tutti, perché al di là di come si concluderà, ancora non lo sappiamo, ma è chiaro che ormai una cosa mi appare evidente, cioè più il tempo passa e più tutte le divergenze sulla richiesta e sull'offerta sembrano concretizzarsi, cioè sembrano essere vere, possiamo prendere per buono, secondo me, almeno una parte di quello che i giornali ci raccontano. Ecco, tutta questa situazione è una situazione spiacevole, è una situazione che pone il giocatore in una posizione di rottura nei confronti dell'ambiente e nei confronti dei tifosi, perché è inevitabile che quando uno si espone in quel modo e dice torno e sistemo tutto, l'ho fatto vedere anche oggi nel corso della live, poi quando torna ci si aspetta che sistemi tutto, vuol dire che se tu ti esponi in questo modo hai già trovato l'accordo, se invece torni e non firmi c'è qualcosa sotto. Oggi sono riprese le voci su offerte fantasmagoriche da parte di squadre inglesi che naturalmente portano all'inevitabile pensiero della porta dal mio punto di vista, cioè io voglio che al Milan ci siano delle persone che vogliono stare al Milan. Chi è titubante, chi pensa che sia arrivato il momento di andare a prendere più soldi, chi pensa che sia arrivato il momento di andare ad un'altra parte perché non si trova bene, che ne so, tutto lecito, tutto giusto, ma deve prendere una posizione, deve andare, non deve fare questi giochetti, perché questi giochetti alla lunga stufano e questi giochetti stufano secondo me anche la dirigenza. Qualche settimana scorsa, un paio di live fa, Vincenzo disse che secondo lui c'era qualcosa, non sappiamo in che modo, ma c'era qualcosa collegato al fatto che si sia fatto un po' di repulisti di tutti i giocatori della vecchia gestione. Da un punto di vista numerico è effettivamente così, credo che sia rimasto solo Frank e Conti, che non ha trovato una sistemazione, non ha voluto trovare una sistemazione, non lo so, però evidentemente come dire, c'è un qualcosa rispetto ai giocatori della vecchia gestione che li fa andare via, non so se volontariamente o involontariamente, ma questo è. Un altro punto importante dal mio punto di vista è quello relativo al discorso Frank e Si in tribuna un anno, Frank e Si in panchino un anno. Questo è un altro dei punti, è un altro delle situazioni nelle quali non ci si dovrebbe andare a infilare perché poi dopo si formano anche questi schieramenti. Io personalmente sono dell'idea che questo sia un tipo di soluzione che non aiuta nessuno perché noi avremo bisogno di Frank e per quel che mi riguarda, fin tanto che uno lavora per una società deve essere serio, disponibile e in piena attività fino all'ultimo giorno, quindi secondo me mettere in tribuna o panchinare forzatamente un giocatore perché non vuole rinnovare mi sembra una presa di posizione sinceramente abbastanza dannosa, dannosa per se stessi in primis, dannosa per il Milan, quindi siccome il Milan è soprattutto, credo che non si andrà in questa direzione. Però resta il fatto, ripeto, che a fronte di un'estate dove abbiamo sentito cifre, dove abbiamo aspettato la soluzione del problema e il problema non è stato risolto, è evidente che le due parti non si siano trovate in accordo. È inutile rinvangare il discorso che andava fatto prima, tutto bello, tutto vero, però è anche vero che fino a due anni fa nessuno avrebbe voluto rinnovare che sì, fino a due anni fa nessuno avrebbe voluto rinnovare Ciolanogo, le cose sono cambiate rapidamente e quando le cose cambiano rapidamente certe volte ci si trova spiazzati. La dirigenza evidentemente si è trovata spiazzata, ha fatto la sua offerta, secondo me nessun mediano vale in Serie A 7 milioni, 8 milioni di quello che chiede dal mio punto di vista, men che meno un giocatore che adesso per noi è fondamentale ma che comunque nella sua carriera non ha ottenuto risultati che giustifichino una tale cifra, voglio ribadirlo perché poi se no sembra che siamo degli spilorci, che la società sia spilorcia e non voglia accontentare il giocatore. Secondo me non vale quei soldi, quindi da questo punto di vista io sono per l'offerta della società che mi sembra anche piuttosto importante per evitare poi anche situazioni come quella di Andrea Conti, come quella di Castiglieco, cioè situazioni dove l'ingaggio non è commisurato al valore del giocatore e poi dopo un domani se le cose vanno male ce l'hai lì, perché questo succede, questo succede. Poi ci sarebbe tutto un discorso sui procuratori ma la facciamo un'altra volta, è collegato anche a quello che ha detto il Presidente della Lega Spagnola eccetera, ma quello è un altro mondo. Aspetto le vostre considerazioni, vi auguro una buona serata.